Caldo! Avvivati nove pinguino per amici? Sì, pinguino super elettronico a due marce. Fa freddo se va ad aria, super freddo se va ad acqua. Freddo, super freddo! I pinguino split super potenti, sono per i grandi ambienti. Hanno il clima automatico, decidono la temperatura ideale. Telefonare amici. Oso grigio, telefono! Tutti volere pinguino de longhi! Pinguino de longhi, numero uno al mondo.